Le strade, quelle cose lì che non vanno più di moda. No, è proprio gli investimenti su cui c'è condivisione politica a livello europeo, ma quelli vanno trattati in modo diverso. Ora, questo tipo di posizione non trova grande consenso, perché manca la dimensione politica, perché evidentemente si preferisce ognuno in qualche modo a conservare situazioni. Le negoziazioni sono andate avanti, sono andate da mesi, 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 mesi. Possibilità che si arrivi a un'approvazione settimana prossima, ritengo scarse, soprattutto io non ho niente contro le videoconferenze, ma che io vada a chiudere un accordo che condiziona l'Italia per i prossimi vent'anni in videoconferenza, anche no, grazie. E quindi forse un ecofin in presenza e di persona potrebbe essere magari più opportuno. Grazie. Grazie.